Spazio Infinito è una trasmissione radiofonica che va in onda sulla web radio del Politecnico di Torino, Onde Quadre. È realizzata in collaborazione da ormai due anni, viene registrata e sul sito si trovano tutti i podcast. Nella trasmissione parliamo di astronomia, di tutto ciò che succede oltre all'atmosfera terrestre e mettiamo anche della musica ispirata dallo spazio. Se domattina la NASA mi chiamasse per invitarmi a un viaggio nello spazio direi immediatamente di sì. È una cosa buffa perché ne ho già parlato anche con i miei genitori, le ho già detto loro che anche se fosse un viaggio senza ritorno partirei senza dubbio. Che sia per Marte, che sia per lo spazio profondo, il desiderio di conoscere, di vedere, di essere partecipe di questa avventura è fortissimo. Partirei immediatamente anche se patirei le pene dell'inferno tra l'accelerazione di partenza e tutto il resto, ma andrei di corsa. Grazie.